Ciao a tutti, in questo quarto video della serie su Empire of the Sun vedremo la fase delle offensive, quindi il cuore del gioco, l'offensive phase. È un card even game, pertanto in questa fase i giocatori si alterneranno giocando delle carte, al solito tali carte potranno essere utilizzate per i punti operazione o per l'evento riportato su di esso. Nel gioco non è presente un solo mazzo da cui attingono i giocatori e quindi non si ha come nella maggior parte dei card driven un mazzo in cui trovare degli eventi affiliati a un giocatore piuttosto che all'altro neutrali, bensì avremo due mazzi di carte, uno per il giocatore alleato e uno per il giocatore giapponese. Entrambi i giocatori attingeranno del rispettivo deck, pertanto potranno scovare solamente degli eventi comunque sia applicabili a loro e al loro vantaggio. Vediamo come si svolge quindi la fase delle offensive. Abbiamo detto che durante tale fase c'è prima un segmento per determinare l'iniziativa dei giocatori, partirà per primo il giocatore che ha in genere il numero maggiore di carte in caso di pareggio, comincerà il giocatore giapponese nei primi turni di gioco, cioè dal turno 1 al turno 4, quindi gli anni 1941-1942, dal turno 5 al dodicesimo invece comincerà prima il giocatore alleato. Qualora il giocatore con meno carte abbia a disposizione una carta per l'offensiva futura, ha la facoltà di giocarla immediatamente, andare per primo e giocare tale carta per l'evento. A quel punto poi proseguirà il secondo giocatore e i giocatori appunto si alterneranno giocando le carte. Quindi quali sono le opzioni che è un giocatore quando è il suo turno? In questo caso il giocatore che sta per giocare la carta viene chiamato giocatore attivo, il giocatore invece che subisce più o meno passivamente l'azione del giocatore è il reaction player, quindi il giocatore di reazione. Il giocatore attivo ha la possibilità di giocare una carta dalla mano, oppure se ha a disposizione dei passo, può bruciare un suo passo, naturalmente ne deve avere almeno uno, ricordiamo questi passi vengono dati durante la fine della fase dei rinforzi, in cui si determina quante carte hanno entrambi i giocatori, se i giocatori hanno 7 carte non hanno diritto a nessun passo, se hanno 6 carte hanno diritto a un passo, se hanno 5 o 4 carte, che il numero o meno di carte potranno comunque avere, hanno diritto a 2 passo. Quindi il giocatore attivo potrà o giocare una carta dalla mano, o utilizzare, bruciare un suo passo, oppure utilizzare una carta dell'offensiva per il futuro. Vedremo al termine della spiegazione di questo video cosa si intende. Immaginiamo che il giocatore quindi decida di utilizzare una carta. Le opzioni che ha a disposizione il giocatore nell'utilizzo di una carta sono giocarla per l'evento, quindi risolvere quello che è scritto, verificare se ci sono dei prerequisiti affinché si possa giocare questa carta, porla poi nella fila degli scarti o rimuovere dal gioco, se la carta ha scritto, ha riportato, che dopo che è stata giocata per l'evento debba essere rimosso dal gioco, oppure può utilizzarla per i punti operazione. Siamo qui in questo scenario nel 1943 come giocatore giapponese, rischiamo ad esempio sette carte, giocare una carta per l'evento, ad esempio questa carta, questa è una carta risorsa, viene rimosso dal gioco se è giocata come evento da diritto a terri rimpiazionali. Questa carta, se viene giocata per l'evento durante una reazione, permette di eseguire un attacco, ma non è rimossa al termine del gioco, quindi finisce nella fila degli scarti e a seguito di un reshuffle, quindi dell'azione del rimischiare il mazzo, questa potrà essere poi giocata anche nei turni successivi. Quindi giocare una carta per l'evento si intende leggere quanto è riportato ed eseguirlo. La carta può essere giocata per i punti operazione, quindi per questi numeri che troviamo qui. Il numero dei punti operazione va da 1 a 3 e tali punti operazione possono essere utilizzati per condurre un'offensiva oppure condurre un'offensiva in Cina, che è un caso particolare, per rimuovere un HQ dalla plancia di gioco, per riportarlo in gioco prima del tempo, oppure l'ultima opzione è costruire una linea di trasporto. Adesso vedremo cosa vuol dire eseguire queste cose. L'abbiamo visto già in un video precedente, però ricordo che esistono quattro tipologie di carte. Ci sono le carte militari, che sono queste con la banda nera, le carte risorse, che sono queste con la banda verde, le carte direzione, che sono queste con la banda blu, e poi abbiamo le carte politiche, che sono queste, quelle con la banda gialla. Per semplificare al massimo, le carte politiche, quelle con la banda gialla, servono ad interagire con i vari track che vediamo sulla plancia di gioco. Ad esempio questa carta, la guerra in Europa, permette di muovere l'indicatore sul War in Europe track, mentre la rivalità tra la marina e l'esercito giapponese, permette di, in questo caso, mettere fine a questa rivalità dei servizi di intelligence. Le carte verde, le risorse, portano nuove unità in gioco. Le carte nere, le carte militari, permettono di eseguire delle offensive, quindi delle manovre militari, in maniera più efficiente, rispetto all'utilizzo del punto operazione. E le carte blu, sono carte di risposta, carte che possono essere, o degli attacchi, come in questo caso, o le carte di tipo tempo, che sono delle interruzioni che cancellano le offensive degli alleati, possono essere carte di intelligence, come questa, che serve a modificare i valori di intelligence di un'offensiva, o addirittura delle controoffensive, adesso non è stata pescata una controoffensiva, che sono dei contrattacchi in risposta a delle operazioni militari fatte dall'avversario. Esistono poi anche i personaggi, i personaggi storici, i tipi grandi, che apportano dei benefici, bisogna leggere l'evento e verificare quanto è scritto. Quindi, questo per quanto riguarda il testo degli eventi. Dicevo, invece, se utilizziamo i punti operazione, possiamo condurre un'offensiva, la vedremo a breve, sarà il cuore di questo video, la parte più importante, condurre un'offensiva in Cina, ritirare un HQ, riportare in gioco un HQ, oppure costruire una rotta di trasporto. Cominciamo proprio da questa opzione. In particolare, in questo scenario, nel 1943, andiamo a chiudere momentaneamente questo specchio, nel 1943, le linee tra questi esagoni sono state costruite. Ci sono, ricordo sulla plancia di gioco, delle linee di comunicazione, possono essere delle strade o delle ferrovie che permettono di velocizzare il movimento delle unità su queste regioni, su questi spazi, costa solo mezzo punto movimento, passare da questo esagono a questo esagono, grazie proprio alla linea ferroviaria. Alcune di queste linee vengono create attraverso degli eventi e delle situazioni particolari. Per esempio, questa linea ferroviaria viene eseguita tramite l'evento del ponte sul fiume Quei. Queste linee, invece, rosse che vediamo qui, sulla plancia, non sono presenti all'inizio della partita, ma possono essere costruite dai vari giocatori. In particolare, quindi questa è una azione che è possibile eseguire tramite l'utilizzo delle carte operazione. La costituzione di queste linee di trasporto costa una carta da tre punti operazione, quindi è necessario scartare una carta da tre punti operazione per costruire le porzioni di strada o ferrovie in questi spazi e mettere quindi, migliorare la logistica di questa zona, la logistica del nord dell'India e di Burma. In particolare, potrà farlo sia il giapponese se controlla l'EDO o in PAL, oppure qui nel nord dell'India il giocatore alleato che controlla questa regione. Quindi questa è un'opzione che hanno a disposizione i giocatori. L'altra è il ritiro di un HQ. Abbiamo detto che gli HQ possono essere portati fuori dalla mappa volontariamente o involontariamente. si intende appunto giocare una carta indipendentemente dal valore dei punti operazione e l'HQ viene posto sul turno tra H al turno più uno. In questo momento noi ci troviamo in questo scenario al turno 5 immaginiamo che siamo il giocatore giapponese e giochiamo una carta e questo lo portiamo qui. In maniera tale che al turno 6 nella fase dei rinforzi dovremo contare anche questo HQ che tornerà in gioco. Questo è il ritiro volontario che possiamo eseguire. oppure se ci troviamo siamo il giocatore giapponese e ci troviamo in questa condizione possiamo voler riportare prima in gioco questo HQ senza aspettare la fine del turno quindi portarlo prima in gioco per far questo possiamo giocare una carta. In questo caso avremo delle limitazioni sullo schieramento dell'HQ in genere quando l'HQ entra in gioco come rinforzo classico segue la regola dei vari rinforzi quindi può essere messo su un porto a patto che sia in supply in questo caso per esempio se prendiamo il giocatore giapponese se giochiamo una carta questo deve essere messo su una isola della madre patria giapponese quindi poi non potremo spostarlo nelle filippine ma saremo costretti se vogliamo farlo rientrare subito a posizionarlo in una di queste zone quindi questa è un'altra opzione che abbiamo a disposizione un'altra opzione particolare è come dicevo la offensiva in Cina allora l'offensiva in Cina è un'offensiva che ha il giocatore è un'azione che ha a disposizione sull'atore il giapponese che è mirata a far collassare il governo cinese cioè giocando una carta da tre punti operazione assaltiamo tra virgolette e eseguiamo questa offensiva in Cina se l'offensiva ha successo questo indicatore cala di uno verso sinistra se questo indicatore arriva su questo spazio il governo cinese è collassato e quindi abbiamo fatto arrendere la Cina con tutto quello che ne comporta come si svolge questa offensiva in Cina innanzitutto andiamo a vedere il numero delle divisioni che abbiamo in Cina per esempio sette e quindi questo è il valore iniziale dell'attacco se vogliamo dell'offensiva dell'offensiva giapponese a questo punto il giocatore giapponese tira un dato e se questo dato è minore o uguale al valore di questa offensiva quindi minore o uguale a sette l'offensiva in Cina ha successo naturalmente ci sono dei modificatori a questo tiro di dato primo fra tutti lo status della strada della rotta verso Burma pertanto questo numero che troviamo qui in realtà è un numero che va a vantaggio del giocatore alleato questo meno 4 meno 8 va a abbassare il valore di soglia della nostra offensiva il valore dell'assalto della nostra offensiva quindi noi cominciamo con un valore di offensiva sette però ci troviamo con l'amp quindi con i trasporti aerei attraverso di Malaya che portano sussidio nelle zone del Burma e della Cina quindi in realtà è come se virtualmente il nostro valore di offensiva fosse 3 e quindi dovremmo tirare un dato se facciamo da 0 e 3 abbiamo avuto successo e quindi l'indicatore viene spostato se facciamo 4 più in realtà non abbiamo avuto successo e quindi non si ha questo shift dell'indicatore quindi questo è il modificatore del dato che dovremo andare a controllare abbiamo anche in realtà un altro modificatore di dato che riguarda la presenza di aerei alleati se questi si trovano praticamente nel box cinese e quindi queste ulteriormente fanno abbassare il valore di soglia dell'assalto dell'assalto giapponese ok questo per quanto riguarda il valore dell'offensiva cinese una cosa importante per quanto riguarda il valore più che il valore l'azione dell'offensiva cinese è che questa non può essere fatta liberamente a nostro piacere al più può essere fatta un turno sì un turno no quindi noi nell'esempio ci troviamo nel turno 5 di gioco se andiamo a eseguire un'offensiva cinese indipendentemente se abbia successo o meno dobbiamo aspettare il turno 7 prima di lanciarne un'altra se però abbiamo tra il turno 5 o il turno 6 un evento che ci permette di eseguire giocando il testo dell'evento un'offensiva in Cina quello lo possiamo giocare tranquillamente è proprio l'azione di spendere punti operazione per assaltare la Cina che può essere eseguita solamente un turno sì e un turno no infine l'ultima azione che abbiamo a disposizione con i punti operazione è quella di lanciare delle offensive militari e quindi adesso entriamo nel cuore proprio del gioco e vediamo come vengono lanciate le offensive militari innanzitutto abbiamo due modi per lanciare le offensive militari che è appunto giocare una carta per i punti operazione oppure giocare una carta militare che permette di lanciare appunto un'offensiva militare indipendentemente dalla causa scatenante dell'offensiva quindi l'evento della carta nera della carta militare o l'utilizzo dei punti operazione di una carta dedicata proprio ad un'azione ad un'offensiva militare gli step da seguire in questo caso sono innanzitutto determinare qual è riporto un attimino headquarters qui sulla plancia determinare da quale quartiere generale viene diramato il comando dell'offensiva quindi dobbiamo scegliere un HQ e da quell'HQ noi potremo a quel punto attivare le nostre unità a questo punto scegliamo le unità che vogliamo attivare coordinate da questo HQ le nostre unità si andranno a muovere verranno dichiarati uno o più esagoni di battaglia cioè quelli in cui si avrà una sovrapposizione di unità del giocatore attivo e del giocatore di reazione il giocatore azione di reazione appunto può giocare una carta reazione come il vento come le condizioni atmosferiche per cancellare gli effetti di questa offensiva e rimandare le truppe al loro posto oppure può eseguire in alcuni casi diciamo dei tiri di dato per verificare se sono state intercettate le comunicazioni del nemico e quindi abbassare il livello di intelligence del nemico durante lo scontro e rispondere allo scontro o giocare delle carte reazione proprio per questo scopo è possibile che si abbiano delle reazioni particolari dei modi di reazione particolari in determinati casi specifici che adesso andremo a vedere e poi si scontrano effettivamente le unità prima si hanno gli scontri aeronavali poi si hanno gli scontri terrestri si tirano i dati sulla combat table si applicano i git si risolvono le varie battaglie se ci sono più esagoni si risolve un esagono alla volta prima di passare all'esagono successivo e poi si conducono i movimenti di post battle come vengono chiamati quindi i movimenti che si hanno dopo la dopo la battaglia allora vediamo quindi come entriamo nel dettaglio e vediamo come si determinano passo passo tutte queste cose diciamo che è più facile farlo che descriverlo quindi poi con un esempio di gioco con un ultimo video vedremo in pratica tutto quello che ci stiamo dicendo rischiamo insomma di perderci un po' tra tutte queste parole però una volta che vengono lanciate un paio di offensive si vedrà che è abbastanza semplice il tutto allora come dicevo viene giocata un'offensiva immaginiamo che venga attivato questo headquarters innanzitutto per determinare se un headquarters è attivabile l'headquarters bisogna prima di tutto capire se stiamo giocando un'offensiva tramite i punti operazione in quel caso possiamo andare a scegliere il nostro headquarters oppure se stiamo giocando una offensiva in base ad una carta perché questo perché se andiamo a leggere una carta militare in genere ha sempre un valore di attivazione una dicitura attivazione in cui c'è scritto chi possiamo utilizzare per l'attivazione alcune carte diranno è possibile attivare solo le headquarters del sud oppure qualsiasi HQ oppure una scelta tra due HQ quindi questa è una prima limitazione che dobbiamo tener a mente quando andiamo a scegliere l'HQ che vogliamo attivare poi successivamente dopo la scelta dell'HQ dobbiamo andare ad attivare le nostre unità per quanto riguarda il giocatore giapponese è abbastanza semplice il giocatore giapponese può attivare tutte le unità che sono attivabili dall'HQ per quanto riguarda il giocatore alleato ricordiamo che il giocatore alleato ha le nazionalità degli HQ pertanto se il giocatore alleato sta attivando un HQ americano questi potrà con l'HQ americano dichiarare solamente attivazioni di truppe americane e cinesi se sta utilizzando invece un HQ del Commonwealth potrà attivare solamente le unità del Commonwealth le unità cinesi e le unità aeree americane se invece utilizza un HQ congiunto per comandare le sue unità potrà scegliere qualsiasi tipo di unità quindi anche questo è importante andare a verificare se si gioca una carta militare per l'offensiva magari all'interno della carta c'è scritto che è possibile attivare solamente aerei piuttosto che unità di terra piuttosto che navi e unità di terra quindi in quel caso bisogna fare attenzione al testo della carta bisogna fare anche attenzione quando si lanciano le offensive al valore se presente della rivalità tra i servizi appunto di intelligence della marina e dell'esercito perché per esempio in questo scenario c'è la rivalità per ambo le fazioni cosa accade in questo caso che gli HQ per esempio l'HQ giapponese non può attivare sia l'esercito che unità navali durante l'offensiva o durante un'eventuale risposta all'offensiva stesso discorso vale per il giocatore americano che non può attivare l'esercito o la marina durante la reazione quindi vanno un attimino considerate queste cose poi per il resto una volta che abbiamo scelto il nostro HQ dobbiamo vedere e capito se possiamo attivare o meno un'unità un'unità bisogna affinché sia attivabile che si trovi in supply e si trovi diciamo entro il raggio di attivazione dell'HQ questa HQ ha raggio 12 quindi possiamo attivare le unità che si trovano entro 12 da questa HQ dove entro 12 significa se riusciamo a creare un path di attivazione verso l'unità quindi dobbiamo attraversare spazi contenuti dove sono presenti delle unità del nemico ad esempio se qui ci fosse o qui se qui a Bangkok e su questo esacolo ci fossero due unità alleate noi non potremo con questo HQ seguendo questo path andare ad attivare queste unità quindi bisogna riprendendo un attimino quello che si è detto nel video 2 della serie verificare se un'unità è nel raggio di attivazione se l'unità è nel raggio di attivazione la possiamo attivare potremo attivare un numero di unità che è pari al valore di efficienza dell'HQ 1 in questo esempio più il valore diciamo logistico della nostra offensiva allora il valore logistico della nostra offensiva se giochiamo una carta militare è stampato sulla carta quindi questa carta ci permette di attivare due unità quindi applicate a questo HQ attiveremo 2 più 1 3 unità in caso contrario se giochiamo una carta per i punti operazione per lanciare un'offensiva quindi se usassimo questa carta per lanciare un'offensiva attiveremo 3 unità più l'efficienza del valore dell'HQ quindi andremo a vedere il valore in punti operazione della carta una volta che abbiamo scelto quali saranno le nostre unità da attivare queste si muoveranno adesso spiegherò come si possono muovere queste unità e sarà possibile andare a dichiarare dei battle axis un esagono di battaglia un esagono in cui sono presenti sia le unità proprie che quelle del giocatore di reazione quindi molto banalmente se noi siamo un giocatore giapponese facciamo un'offensiva e spostiamo questa unità da qui a qui questo sarà un esagono di battaglia così come se andiamo a spostare questa da qui a qui questi saranno due esagoni di battaglia ora noi potremo avere solamente un esagono di battaglia se giochiamo se eseguiamo un'offensiva scaturita da una carta utilizzata per i punti operazione se invece utilizziamo una carta per l'evento possiamo quindi una carta nera una carta militare possiamo anche attivare avere a valle del movimento più esagoni di battaglia a questo punto prima di procedere per lo scontro bisogna determinare le condizioni di intelligence dell'offensiva questo cosa significa? significa che di norma quando viene sferrato un attacco un attacco ha un valore di intelligence che è di attacco a sorpresa qualora non sia espressamente specificato nella carta in questo esempio non l'abbiamo alcune carte hanno anche un valore di intelligence uguale surprise attack allora qualora non sia specificato nella carta il giocatore di reazione può volendo tirare un dado e verificare se ha intercettato le comunicazioni del nemico e quindi se può rispondere cioè se abbassare il valore di intelligence da attacco a sorpresa a intercept perché questo è importante perché se il livello viene abbassato e quindi viene intercettato il nemico innanzitutto il giocatore di reazione ha la possibilità di reagire e quindi di spostare alcune unità a supporto dei battle axis che sono stati dichiarati e quindi non combattere solamente quelle unità che si trovano nell'esagono di battaglia dichiarato ma può portare degli aiuti e secondariamente se l'attacco rimanesse ad attacco a sorpresa oltre al fatto che non arrivano dei rinforzi per il giocatore in difesa l'attaccante attacca per primo il combattimento non è in contemporaneo se invece il livello di intelligence è di intercetto allora il combattimento è in contemporaneo quindi l'attacco può essere o di attacco a sorpresa come livello di intelligence o di intercetto quindi abbassando l'intelligence in realtà c'è addirittura un terzo valore di intelligence che è l'imboscata e questo può si traduce diciamo così in una sorta di contrattacco da parte di preparazione e contrattacco da parte del giocatore in difesa nel qual caso il primo è il difensore che lancia i dadi e infligge le ferite e poi toccherà l'attaccante allora per determinare questo livello di intelligence il giocatore di reazione può o lanciare un dato se ripeto si sta lanciando un'offensiva tramite punti operazione o tramite una carta nera in cui non è esplicitamente scritto che si tratti di un'attacco a sorpresa oppure può giocare una carta di reazione esempi di carte di reazione abbiamo qui il JN25 code change che è una carta che dice proprio che il livello di intelligence si è modificato diventato intercept in più permette anche di pescare una carta dopo che è stata giocata quindi questo è un esempio di carta che modifica il livello di intercetto in realtà il giocatore può in risposta a un'offensiva giocare anche le altre tipologie di carte reazione questo è un attacco questo è il maltempo che come dicevo cancella addirittura un'offensiva e in genere il giocatore in reazione ad un attacco può giocare in risposta solamente carte di tipo reazione in totale può giocare tre carte reazione quindi se fosse il turno dell'americano diciamo che potrebbe andare a giocare sia questa che questa che la carta del del maltempo e in questa mano se ricordo bene non ho pescato la contro offensiva ci sarebbe potuto essere anche la contro offensiva allora diciamo che se il giocatore in risposta non ha una carta reazione da giocare o non la vuole giocare può eseguire un tiro di dato per vedere se si abbassa il valore di intelligence tira sempre il d10 e a questo punto deve tirare un numero che è per avere successo affinché l'intelligence insomma sia abbassata da attacca sorpresa a intercept deve tirare praticamente un un dato e il risultato che deve ottenere deve essere uguale o inferiore al valore di di matching della carta utilizzata ovvero riprendendo le carte se noi stiamo utilizzando questa carta per lanciare un'offensiva il giocatore alleato deve andare a controllare questo numero oc5 tira un dato se fa 5 o meno allora è riuscito a intercettare quest'offensiva questa carta invece ha uno c di 3 quindi è più difficile intercettare un'offensiva lanciata da questa carta questa carta invece a 4 non è casuale che la carta con più basso punti operazione ha anche il valore più basso di intercetto perché alla fine stiamo muovendo meno unità 1 più il valore di intelligence più il valore di efficienza dell'HQ contro 3 più il valore di efficienza dell'HQ quindi anche le comunicazioni radio tra tutte queste unità saranno inferiori e sarà meno probabile che l'avversario riesca a intercettare le comunicazioni radio mentre più è grande la campagna militare più è probabile che venga intercettata e che venga notata se invece giochiamo una carta militare per l'evento allora dobbiamo vedere il valore di EC quindi in questo caso questa carta giocata per l'evento il giocatore avversario tira un dato se fa 7 o meno riesce a intercettare e l'EC è sempre maggiore dello C questo perché perché di norma l'evento permette di giocare di avere un valore logistico almeno uguale se non maggiore dei valori dei punti di operazione della carta stessa questa è una carta particolare però poi ha dei benefici in genere ci sono anche dei bonus che devono essere letti e delle condizioni particolari insomma quindi è più probabile che venga intercettata questo tiro di dado ha un modificatore se durante il movimento delle unità che sono state attivate che sono giunte al battle axis o che si sono mosse comunque entrano escono o attraversano una zona di influenza del nemico indipendentemente dal fatto che sia neutralizzato o meno questo naturalmente fa sì che tali movimenti vengano notati con più probabilità e quindi il valore DOC viene aumentato DOC viene aumentato di 2 quindi sempre nell'esempio di prima se noi utilizziamo questa carta per lanciare un'offensiva in realtà questo numero 5 diventerebbe un 7 se un'unità del giapponese fosse passata all'interno di una zona di influenza alleata e quindi l'alleato con un tiro di dado da 0 a 7 riesce ad intercettare le unità nemiche se il tiro di intercetto se viene intercettato tramite una carta ha avuto successo dopo il movimento del giocatore attaccante c'è il movimento del giocatore difensore quello che viene chiamato reaction move e quindi in questo caso il giocatore difensore il giocatore di reazione deve eleggere un HQ che è in rifornimento e questo HQ viene definito l'HQ di reazione deve affinché possa essere diciamo eletto come HQ di reazione quell'HQ che si sta selezionando deve esserci almeno un esagono di battaglia entro il raggio di quell'HQ quindi ad esempio il giocatore il giocatore alleato ha qui un HQ questo del FIAC immaginando che l'offensiva del giapponese sia partita da questo HQ che abbia mosso queste due unità e che quindi abbia creato qui due esagoni di battaglia il giocatore alleato ha tirato un dato ha avuto successo e quindi può eseguire un movimento di intercetto questi almeno entrambi gli esagoni in realtà comunque bastava che uno di questi due esagoni fosse nel raggio di questo HQ che c'è qui sotto quindi questo HQ viene eletto per esempio come HQ di reazione il giocatore alleato a questo punto ha la possibilità di attivare un numero di unità che è pari al valore di efficienza dell'HQ sempre quindi uno più il valore logistico della sua risposta il valore logistico della risposta è pari al valore in punti operazioni della carta utilizzata dal giocatore avversario se il il giocatore in reazione ha giocato una carta di contro offensiva come carta di reazione allora leggerà il suo valore in punti diciamo il suo valore in termini logistici sulla carta della contro offensiva a questo punto il giocatore alleato potrà attivare le sue unità va a attivare le unità affinché comunque possano raggiungere il battle axis non è possibile attivare delle unità e muovere queste unità per cui non vanno a finire nell'esagono di battaglia quindi non è possibile utilizzare una sorta di escamotage per muovere delle unità molto lontane se ci fossero per esempio se ci fosse qui un'unità terrestre che diciamo non potesse eseguire un movimento anfibio non sparca anfibio ma potesse muoversi solamente lungo terra e non riuscisse ad arrivare qui in A o in B non è possibile andare a muovere questa unità semplicemente per farla avvicinare all'esagono di battaglia oppure questo per quanto riguarda le unità terrestri e marine oppure comunque devono riuscire a partecipare alla battaglia stessa pertanto se ci fosse un aereo qui e questo si potesse trasportare qui entro range delle battaglie in A o in B quel movimento sarebbe legale se invece non riuscisse ad arrivare entro il raggio d'azione per le battaglie A e B non si potrebbe andare a muovere quel determinato aereo una volta che comunque sono stati condotti questi movimenti si procede allo scontro su A e su B o su B o su A l'ordine viene scelto dal giocatore attaccante e poi ci sarà il movimento post battle e quindi di tanto si sono mosse le unità per raggiungere unità aeree e l'unità navali per raggiungere questi spazi di tanto si dovranno muovere indietro verso degli aeroporti o dei porti amici lo stato del controllo di un porto di un aeroporto potrebbe cambiare durante il corso della battaglia perché magari nel contempo c'è stata una battaglia terrestre e quindi è stato preso possesso di quel determinato esagono per cui la verifica degli esagoni di porti aeroporti amici su cui è possibile tornare nel movimento di post battle viene comunque eseguito esattamente appena termina la battaglia quindi non è detto che le unità debbano tornare parecchio lontano indietro ma possono rimanere sugli esagoni appena conquistati vediamo come si muovono quindi le unità allora innanzitutto per quanto riguarda il valore in movimento delle unità questo è dettato da questo chart ed è in particolare dettato anche dal valore in punti operazione della carta utilizzata per far partire l'offensiva nel nostro esempio il Giappone ha utilizzato una carta da tre punti operazione questo cosa significa andiamo a guardare questa riga questa qua sotto e andiamo a leggere che un'unità di terra ha tre punti movimento un'unità aerea che ha un range di movimento ha sei punti movimento una che ha un raggio esteso di quattro ne ha dodici e via discorrendo una nave ne ha quindici cosa significa questo in maniera molto semplice ogni unità terrestre questa ha un valore di movimento che è pari a uno due o tre a seconda se usiamo una carta da un punto per azione due punti operazioni o tre punti operazioni per lanciare l'offensiva le navi hanno un valore di movimento pari a cinque dieci o quindici quindi quello basilare è cinque se giochiamo una carta da due lo raddoppiamo se giochiamo una carta da tre la triplichiamo se andiamo a prendere un aereo che ha un raggio di movimento che è tre questo si muoverà di potrà diciamo muoversi di di tre esagoni da un aeroporto ad un aeroporto che viene controllato quindi uno due e tre quindi aeroporto aeroporto però potrà fare queste tratte diciamo e quindi intervallare un rifornimento tra una tratta e l'altra un numero di volte pari al numero dei punti operazioni giocati pertanto se abbiamo giocato una carta da un punto operazione l'aereo che stava qui può fare uno due e tre e si ferma se abbiamo giocato una carta da due operazioni abbiamo un'altra rotta che possiamo percorrere una due e tre ad esempio e addirittura se abbiamo giocato una carta da tre punti operazione possiamo fare uno e due ad esempio non c'è un altro aeroporto anzi c'è eccolo qui tre e arrivare qua giù quindi per quanto riguarda i movimenti degli aerei possiamo fare un numero di tratte pari al numero dei punti operazione il range della tratta è pari al valore del raggio dell'aereo e adesso quest'aereo l'ho mosso di tre però avrei potuto muoverlo del raggio esteso cinque che magari era più conveniente per portarlo più vicino al campo di battaglia ci sono aerei che hanno un range di movimento due o quattro e quindi si utilizzeranno delle tratte da due o quattro e bombardieri che hanno sei e otto l'importante per quando si muovono gli aerei è che facciano spola da un aeroporto all'altro che sia controllato durante la fase delle offensive non ci sono vincoli di stacking quindi possiamo andare ad accumulare e creare una pila di un numero di unità a nostro piacere a patto che quando la nostra offensiva sia terminata siano rispettati i vincoli di stacking i vincoli di stacking sono al massimo su un esagono possiamo trovare sei unità navali e tre unità tra aerei e truppe di terra quindi in questo momento se adesso diciamo stiamo eseguendo un'offensiva e qui ci sono queste tre unità va tutto bene se sempre per l'offensiva durante l'offensiva quest'aereo si trovasse qui va ancora bene terminata l'offensiva però qui non è possibile trovare quattro unità terra e aria una di queste un aereo magari deve andare a finire qui se no se andiamo a violare le regole di stacking un'unità deve essere rimossa questo per quanto riguarda diciamo i movimenti in senso esteso scendendo un pochino più nello specifico allora ci sono dei movimenti che vengono chiamati movimenti strategici che possono eseguire le navi e che possono eseguire anche gli aerei per quanto riguarda le navi una nave può eseguire un movimento strategico partendo il suo movimento da un porto che controlliamo e arrivando ad un altro porto che controlliamo in questo caso può muoversi del doppio quindi significa che addirittura se giochiamo una carta da tre punti operazione per eseguire un'offensiva dove una nave si muove di 15 se esegue un movimento strategico si può muovere di 30 quindi non so se ci fosse una nave che parte da qui dall'Australia con un movimento strategico può arrivare probabilmente in questa regione quindi attraversare tutto l'oceano indiano nel eseguire questo movimento però questa nave non può entrare in zone di influenza non neutralizzate dal nemico e le porta aerei mentre eseguono questo movimento strategico non esercitano zone di influenza per quanto riguarda invece il movimento strategico degli aerei questo gli permette di raddoppiare le tratte che possono andare a percorrere quindi un aereo che se abbiamo utilizzato una carta da due punti operazione per esempio per muovere un aereo che ha un raggio esteso di 4 questo in realtà in totale si muoverà normalmente di 8 esagoni al massimo 4 più 4 in realtà qui raddoppiamo il movimento quindi potrà fare 4 più 4 4 più 4 nuovamente e quindi muoversi in realtà di 16 esagoni anche qui durante questo movimento strategico gli aerei non potranno entrare dentro zone non neutralizzate delle porta aerei e degli aerei nemici e in più non possono anche loro partecipare alle offensive per quanto riguarda invece le unità terrestri le unità terrestri non hanno la possibilità di eseguire uno strategic movement in questo in questo senso hanno la possibilità di eseguire gli sbarchi navali ovvero come avviene uno sbarco navale innanzitutto bisogna verificare se il giocatore ha a disposizione un numero sufficiente di ASP che sono i movimenti gli anfibio assault point a disposizione il giocatore giapponese per esempio ha 7 punti per eseguire un movimento uno sbarco anfibio viene spostata la nostra unità non su terra ma su mare quindi si immagina di avere una nave che stia trasportando queste unità durante qui non può entrare durante questo tragitto quindi immaginiamo di fare uno sbarco di questo tipo se questa zona fosse controllata dal giocatore americano naturalmente questo costa un certo numero punti di ASP adesso se facciamo attenzione andiamo un attimino a zoomare qui abbiamo sopra le forze di terra queste X che servono a indicare la grandezza delle unità queste che hanno 4X sono degli eserciti delle armate se abbiamo 3X sono dei dei corpi vediamo se ne riusciamo a trovare qualcuno subito oppure troviamo tutte armate queste che sto vedendo qui sono tutte armate probabilmente entreranno in seguito sono state già eliminate se no abbiamo unità più piccole che sono quelle con 2X che sono le divisioni allora se spostiamo tramite uno smart anfibio una divisione quindi un'unità che ha 2X ci costa semplicemente un punto quindi andiamo ad abbassare qui di un punto se invece andiamo a trasportare una armata o un corpo costa 2 punti se è intera o un punto solo se è ridotta questa è ridotta quindi costa semplicemente un punto e la distanza che può percorrere è la distanza che può percorrere una nave 5, 10, 15 in base al valore in punti operazione che è stato utilizzato per lanciare questa offensiva ci sono delle restrizioni per quanto riguarda questo moto di sbarco questo sbarco anfibio in quanto se noi vogliamo durante questo path entrare in una zona dove c'è un'unità navale del nostro avversario dobbiamo necessariamente avere un'unità navale che scorti questa unità che sbarca se no questo moto non è possibile pertanto se ci fosse una nave all'ancora se noi immaginassimo di andare da qui e seguire uno sbarco vediamo un po' lo possiamo fare vediamo da quest'altra parte se noi volessimo eseguire uno sbarco anfibio da ecco da qui e arrivare e sbarcare qui se qui ci fosse una nave nemica quindi prendiamo questa nave e posizioniamola qui se qui quindi c'è una nave nemica dovremmo avere comunque a nostra disposizione anche una nave che vada a scortare il movimento e quindi tenerla diciamo all'interno di questo sconto perché se no non possiamo eseguire questo determinato moto inoltre lo sbarco anfibio non può entrare questa unità terrestre che si sta muovendo attraverso lo sbarco anfibio non può entrare in una zona non neutralizzata influenza del nemico una cosa importante per quanto riguarda la pianificazione degli sbarchi anfibio è il fatto che in uno scontro in un esagono il primo step è eseguire uno scontro aeronavale successivamente è necessario eseguire uno scontro terrestre se ci sono delle unità ebbene se noi come in questo esempio stiamo trasportando delle unità tramite questa 1812 tramite una nave la 710 in questo esagono in questo esagono dichiarato come esagono di battaglia prima ci sarà uno scontro aereo navale quindi la 710 giapponese dovrà combattere contro la 38 australiana la Kent quindi del giocatore alleato e contro quest'unità aerea della marina questo aereo il 612 se durante lo scontro navale il giocatore giapponese dovesse avere la peggio e quindi perdere lo scontro navale a questo punto lo sbarco anfibio viene annullato e quindi se non ci fossero ulteriori unità giapponesi che via terra siano arrivate su Guadalcanal lo sbarco anfibio l'unità che stava cercando di sbarcare è costretta a tornare indietro e quindi avremo perso punti e attivazioni dettate dalla nostra carta quindi è necessario quando è eseguito uno sbarco anfibio pianificarlo correttamente per quanto riguarda poi il giocatore giapponese ci sono alcune unità particolari che sono queste unità di di marina queste unità non diciamo possono eseguire tra virgolette gratuitamente gli sbarchi anfibio quindi non costano punti qualora ad accompagnarle siano le unità le CA CL o APD quindi ad esempio qui abbiamo la NAOI che è una CA che potrebbe accompagnare questa 6-6 gratuitamente senza farci spendere il punto di sbarco anfibio oppure se decidessimo di muoverla da qui a qui in questo attacco suicida comunque ci costerebbe è legale ci costerebbe comunque uno sbarco anfibio ultima cosa per quanto riguarda questi moti delle unità terrestri possiamo eseguire un movimento strategico di queste unità terrestri da un porto ad un porto che noi controlliamo pari alla distanza di una nave che si muove all'interno di questa nostra offensiva senza pagare il costo dello sbarco anfibio cioè questa unità immaginiamo che stiamo giocando una carta da 2 quindi abbiamo 10 movimenti navali a disposizione possiamo ridislogarla per esempio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a Singapore senza pagare il punto di sbarco anfibio questo sarebbe una sorta di strategic movement delle unità terrestri veniamo quindi una volta che sono stati eseguiti questi movimenti il giocatore di reazione ha la possibilità di attivare le sue unità e muoverle secondo in sostanza le stesse regole pagando i punti movimento il movimento del giocatore di reazione è pari al movimento del giocatore di azione cioè viene utilizzato come valore in punti operazione quello utilizzato dalla dalla carta giocata dal giocatore in attacco dal giocatore dal giocatore attivo dopo che sono stati mosse tutte queste unità e quindi sono stati dichiarati i vari battle axis si procede alla alla battaglia allora il primo step è la battaglia aeronavale la battaglia si risolve in maniera molto semplice cioè si utilizza questa tabella all'inizio e questa tabella subito dopo se c'è un combattimento terrestre o comunque nei combattimenti terrestri cioè si va a computare il valore di attacco dell'attaccante e del difensore ci sono dei modificatori che sono riportati qui si tira un dado si determina se c'è qual è il valore di efficienza dell'attacco del del giocatore immaginiamo che ci sia stato un intercetto quindi gli attacchi sono comunque tra attaccante e difensore ognuno determina il suolo di efficienza pertanto se il tiro di dato modificato cade tra 6 e 8 la sua efficienza è 1 per cui se aveva un attacco da 17 come potenza di fuoco perché aveva una nave da 10 un aereo da 7 ad esempio allora va a infliggere 17 colpi all'avversario se invece il suo range cade tra 5 e 3 in realtà divide per la metà e rotonda per eccesso quindi aveva 17 infligge 8 per it all'avversario e via dicendo insomma ci sono delle frazioni che devono essere considerate questi hit vengono applicati all'avversario bisogna dare priorità alle unità che comunque si trovano a full strength e ridurle prima di eliminare delle unità già ridotte e in maniera semplice insomma vengono ridotte dall'ital unità immaginiamo per esempio in questo scontro se qui il giocatore giapponese avesse subito 20 perdite ne può attribuire 14 alla Nagato e quindi la Nagato va a flipparsi le altre 6 non sono sufficienti a girare la Junior che ha 8 il secondo 8 andiamo a vedere quindi questa sarebbe la risoluzione se invece di aver subito se avesse subito altri 2 danni avrebbe ridotto anche questa unità se ne avesse subiti ancora andrebbe a distruggere almeno altri 8 andrebbe a distruggere la porta aerei la Junior il 9 è cerchiato è evidenziato in il rosso perché il 9 puro è un colpo un colpo critico pertanto in questo caso il giocatore può evitare la regola delle priorità e quindi concentrarsi nell'affondare una determinata nave tralasciando quelle che sono state già ridotte e quindi concentrarsi appunto su una nave stessa inoltre il critico permette anche di attribuire uno step loss ad una ad una unità che ha il valore di difesa inferiore questo per quanto riguarda lo scontro aereo e lo scontro navale la cosa importante da ricordare è che questo scontro non è uno scontro espressamente che si ha quando si combattono aerei e navi tra di loro ma è una prima fase della guerra nel battle axis questo significa che se sono esagono di battaglia un giocatore non ha unità aeree e unità navali ma l'altro giocatore ha unità aeree e unità navali queste unità aeree o navali possono attaccare le unità di terra dell'altro giocatore seguendo questa tabella senza subire del fuoco contrario perché le unità di terra non possono attaccare le unità di aria e quindi infliggono fanno una sorta di prebombardamento costiero bombardamento aereo se vogliamo e possono infliggere delle perdite alle unità terrestri a protezione prima di un eventuale scontro terrestre se il giocatore attaccante ha portato anche delle unità terrestri nello scontro questo combattimento aereo navale che va a colpire le unità a presidio le unità terrestri comunque non può rimuovere l'ultima unità terrestre presente in quella posizione quindi per esempio questa unità giapponese può essere attaccata da una miriade di aerei alleati anche se facessero cento danni comunque questa unità non può essere rimossa perché è l'ultima unità che è presente qui quindi non può perdere questo step per quanto riguarda il livello come vengono computate le forze delle unità che partecipano allo scontro in maniera molto semplice gli aerei si considerano gli aerei e le navi per quanto riguarda le navi si prende il primo valore di sinistra 10, 17, 18 8 e 14 per quanto riguarda gli aerei viene preso il valore di sinistra il 10 se questo se il battle axis in cui partecipa questo aereo si trova entro il suo raggio d'azione che è 3 se si trova entro il raggio esteso che è 5 si dimezza questo valore quindi nell'esempio dei battle axis che abbiamo dichiarato qui se abbiamo detto che quest'aereo partecipa allo scontro è fermo in questo aeroporto se partecipa allo scontro in A apporta 22 perché è entro 2 il suo raggio normale mentre il battle axis B è a 3 esagoni pertanto se decidiamo che questo aereo supporta la battaglia nel battle axis B in realtà nella battaglia aereo navale lui porta un valore di forza pari ad 11 che è la metà dopo lo scontro aereo navale c'è lo scontro terrestre lo scontro terrestre è sempre in contemporanea quindi non si va a verificare quel discorso dell'intelligence c'è qui una tabellina che deve essere tirata ci sono dei modificatori in particolare il difensore ottiene un beneficio se diciamo è sottoposto a delle offensive che hanno usato un trasporto anfibio l'attaccante ha dei malus dovuti al terreno e ha dei bonus dovuti al fatto che ha delle unità aereo navali viene tirato il dato anche qui si verifica l'efficienza la cosa particolare è che mentre qui il valore dell'attacco può andare da un quarto delle forze stimate alla totalità qua invece è duplicata perché va dalla metà al doppio delle forze stimate e quindi anche qui si vanno a considerare gli git che sono stati calcolati si dà sempre priorità alle unità che devono essere ridotte e poi si può procedere una volta che sono state ridotte tutte si può procedere alle unità ridotte per essere eliminate dal gioco a questo punto una volta che sono state completate queste fasi di battaglia si verifica un'eventuale ritirata delle unità di terra in quanto il giocatore diciamo attaccante se è costretto a ritirarsi è costretto a ritirarsi nell'esagolo da cui è provenuto il giocatore invece in difesa se si deve ritirare si deve ritirare in uno diciamo adiacente dietro di lui se vogliamo una volta che l'offensiva è stata giocata la carta poi viene scartata o viene rimossa dal gioco se ad esempio è stato utilizzato un evento come in questo caso è stata lanciata un'offensiva attraverso questo evento la carta è rimossa dal gioco quindi questo è come avviene un'offensiva nel video successivo poi la mettiamo in pratica vediamo che in realtà è più facile è più difficile a dirsi che a farsi perché ripeto le uniche cose che bisogna tenere in considerazione sono la cosa veramente importante è il numero in punti operazione che vediamo sulla carta perché questo determina sia il movimento delle unità che il numero delle unità che andiamo ad attivare e maggiore sarà questo numero quindi maggiore sarà l'impatto la forza se vogliamo la spinta l'inerzia del nostro attacco ma sarà anche più probabile che il nemico possa reagire al nostro attacco per quanto riguarda il modo di reazione del giocatore avversario abbiamo detto che può reagire nel caso in cui ci sia un battle axis e quindi dichiarare un HQ sia ingittata a raggio d'azione di quel battle axis in realtà esiste anche una particolare movimento diciamo così di reazione lo special reaction move del giocatore in reazione cioè quando un'unità di terra del giocatore attaccante vado a occupare o un esagono di tipo risorsa o un porto o un aeroporto o una città dell'avversario che si trova entro il raggio d'azione di un HQ sempre e soprattutto si trovi all'interno di una zona di influenza aerea allora in quel caso anche se non c'è un battle axis perché magari l'esagono risulta essere libero il giocatore in difesa può dichiarare questo special reaction reaction move e quindi in quel caso fa un tiro di intelligence al solito se ci riesce l'esagono è dichiarato esagono di battaglia e quindi deve cercare di raggiungerlo con le regole insomma del movimento questo per quanto riguarda l'utilizzo di una carta per un'azione vera e propria quindi ricapitolando una carta oltre che essere giocata per l'evento può essere giocata per condurre un'offensiva o un'offensiva in Cina per riportare sulla plancia di gioco un HQ in precedenza rimosso tramite l'utilizzo di una carta o costruire una strada o una ferrovia per migliorare qui la logistica un giocatore ha la possibilità di bruciare un passo se ne ha qualcuno salvato oppure ha la possibilità di prendere una carta e metterci giocarla a faccia coperta metterla da parte metterci sopra un token e battezzarla come carta per l'offensiva futura se viene fatto se viene fatto ciò il giocatore non può più dichiarare offensive future fin tanto che quella carta rimane lì perché questo spazio diciamo rimane loccato da questa carta e questa carta può essere utilizzata o per vincere l'iniziativa durante un turno successivo se si ha meno carte si può dichiarare di partire per prima e giocare l'evento della carta che è stata messa da parte oppure può essere comunque giocata durante la fase delle offensive anche la stessa in cui è stata messa da parte però a patto che non sia giocata come ultima carta della fase della fase offensiva insomma quindi durante il turno ma non alla fine del turno però questo non vieta al giocatore di tenerla più turni nascosta perché non vuole né giocarla né utilizzarla per vincere l'iniziativa e giocarla al momento questo conclude quindi il video circa la fase delle offensive e così la panoramica del regolamento di Empire of the Sun il regolamento ripeto come già detto al primo video è abbastanza corposo molto discorsivo comprende all'interno l'esempio di gioco in totale sono una cinquantina di pagine tutto sommato compresi anche i vari scenari è denso di informazioni molte regole e molti comportamenti e concetti chiavi sono ripetuti anche in più punti del regolamento e ci sono diverse reference all'interno dello stesso insomma è un regolamento che va letto più di una volta secondo me per masticarlo bene per comunque ricordarsi dove andare a riaprire un capitolo se si ha un dubbio mentre si sta facendo una partita nel video successivo vedremo alla fine l'esempio di gioco proprio del regolamento in cui vengono messi in pratica tutti i concetti visti e enunciati fin qui a